Rappresentanti della società civile, esperti e personalità della cultura, distintesi per senso civico, fanno parte da oggi ufficialmente del Comitato per la Legalità. L'insediamento questa mattina nel comune di Baronissi, come ha spiegato nel corso dell'iniziativa di presentazione il sindaco della cittadina della Piana dell'Irno, Gianfranco Valeante, a volere l'iniziativa il Consiglio Comunale. Sarà un laboratorio di idee, fatto di confronto e lavoro su un tema tanto importante e delicato come quello della giustizia e della legalità. Ci contiamo molto, dovrà essere un organismo dinamico, di sprone, di sollecito, di ausilio all'amministrazione comunale e anche il contrario, cittadinanza attiva, perché credo ci sia bisogno di parlare molto con la nostra società, prioritariamente con i giovani nelle scuole, per far capire, io ho un attimino una opinione diversa da quella dell'ombroso, che la criminalità non è qualcosa di biologico, è qualcosa che viene nel tempo, in contesti e quindi dobbiamo far capire che legalità rispetto a legalità è soprattutto un discorso di civiltà, di educazione, di interlocuzione. È un'iniziativa che va nella stessa direzione alla quale ci muoviamo tutti. Io credo molto nella collaborazione tra tutti quanti gli attori istituzionali che abbiano sia una rilevanza pubblica che privata verso la legalità, verso lo sviluppo della cultura della legalità e verso lo sviluppo di una mentalità diversa, per far crescere le persone del territorio. Questo spero che sia, anzi ne sono convinto, è una delle iniziative che va in quella direzione alla quale noi forniremo tutto il supporto possibile.